la parola nasa si trova nella bibbia vediamo cosa significa chi è nell'occulto vi deride vi beffa perché pensano che non sappiate nulla un modo per cui vi beffano ecco il gioco di parole il gioco di parole deriva da una parola ebrea che ha il doppio significato ad una insinuazione nella parola ed azione in inglese andiamo a vedere i dizionari strong ebreo 5375 5377 nasa questo è un estratto del codice numerico biblico il dizionario del dio nascosto ed oltre qui un altro punto che ho trovato questo invece è il secondo punto favorito e la parola è took up come dire salire su in aria qual è la parola ebraica nasa dovete sapere che prima quando ho iniziato questa presentazione vi ho detto che quello che andavo a mostrarvi questa sera non è nulla di nuovo e che ci sono altri individui ed organizzazioni là fuori che conoscono questo codice molto meglio di quello che ascolteremo stasera non c'è nulla di nuovo sotto il sole la mia domanda è per quale motivo nessun pastore o sacerdote ha condiviso questa verità con voi perché questo si conosce da molto tempo mi sono sempre chiesto per quale motivo non hanno chiamato il nostro programma spaziale programma spaziale degli stati uniti mi sembra più piacevole programma spaziale degli stati uniti ma l'hanno chiamato nasa ed è interessante perché significa prendersù bene significa anche portare salire trasportare allevare e possiamo vedere che cosa abbiamo trovato qui nelle croniche 1 al tredicesimo e in tutto il capitolo si parla di trasportare l'arca di dio abbiamo scoperto che la parola si trova dappertutto nelle scritture qui ce n'è una che ritorna alla tua domanda di prima scusa non ricordo il nome nicole nicole bene nicole abbiamo parlato di come le parole hanno un significato positivo e negativo il suono ebreo della parola prendere è nasa che significa educare andato recare prendersù alzare salire ha anche una connotazione negativa sviare illudere mentalmente sedurre moralmente imbrogliare ingannare notevolmente quello che è interessante che la parola nasa significa questo siete stati ingannati dalla nasa la domanda è siete salvi parliamo del vangelo di cristo il vangelo che ci salva oggi si trova nei corinzi primo versetto 15 1 vi rendo noto fratelli vi dichiaro il vangelo il vangelo significa le buone nuove che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto nel quale restate salvi verso 2 attraverso il quale sarete salvati questo vangelo che paolo era pronto a raccontare a questi individui dice che erano salvi verso 3 vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto che cioè cristo morì per i nostri peccati e secondo le scritture ed inoltre che fu seppolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture quindi potete essere salvati proprio adesso semplicemente credendo in quel vangelo dove dio è morto per i vostri peccati cristo il figlio di dio è morto per tutti i vostri peccati passati presenti e futuri quando cristo muore sulla croce per i nostri peccati non eravamo nemmeno vivi quindi quanti dei nostri peccati erano già nel futuro quel tempo tutti ogni singolo peccato che commettiamo in questa vita era già il futuro per cristo e lui è morto per questi peccati ha pagato per questi peccati duemila anni fa e se credete questo potete salvarvi